Spawn kill! Spawn kill! Spawn kill! Da cameretta. Da dove? Cameretta. Matrimoniale. Sta verso finestrone. Sta finestrone. Dovete trovare e disinnescare una bomba. Sta sempre sopra. Se ho lasciato veloce veloce ce l'ho pigliato. Dimmi come si fa il cimrodo. Pulse! Pulse! Finestrone. Cameretta a bambini. Se n'è sceso. Chi se mi sta rincorrendo il drone? Vai giù. Sta sempre a cale. C'è freddo tutto e di più. Secondo me è un uomo di riscarp. Oh cazzo, io ti nonno. Guarda che mongolo di gente. Guarda che gente cretina. Vai giù, vado a mettere tu una clamor là, per favore. Allora, l'altra parte...